Alcuni elementi del programma Libero, che si presentava con questo libro che era una scelta particolare per lui, questa musica di Beethoven, a questo punto l'aveva piaciuto molto perché ha avuto il primo libro della serata, anche se, devo dire, abbiamo visto questi libri che a noi sembravano anche meglio costruiti. E siamo all'altra coppia russa, Katarina Gerbort e Alexander Herbert, coppia russa, quarta però nelle coppie d'artistico. E' un'altra coppia russa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.